Azione a massa ha scelto di andare con Francesco Perziani. Come anticipato nei giorni scorsi, il partito di Carlo Calenda ha deciso di fare il passo e sosterrà alle prossime amministrative il sindaco uscente. Questo quanto emerso durante la conferenza stampa convocata da Azione e a cui ha preso parte lo stesso Francesco Perziani. Una scelta condivisa e coadiuvata sia a livello nazionale che regionale. Tanto che, come anticipato dal segretario provinciale di Azione, Riccardo Pelliccia, nei prossimi giorni sono attesi esponenti del partito in visita proprio nel capoluogo Apuano. Gli stessi giorni in cui probabilmente verranno presentate le liste. Abbiamo apprezzato il buon governo, le cose messe in campo per la città di massa e oggi sposiamo questo progetto con convinzione. Quindi Azione è un partito che si è sempre caratterizzato per una politica concreta, pragmatica e idee e progetti per la città. Quindi noi vogliamo unirci alla coalizione del sindaco Francesco Perziani per portare questa progettualità avanti. Durante la conferenza Azione ha motivato il perché della scelta di appoggiare il sindaco uscente, invitando i riformisti d'Italia Viva a condividere le stesse scelte. Italia Viva che nelle prossime ore si incontrerà per sciogliere il nodo proprio sulle amministrative. Grazie per la visione!